Siamo qua, abbiamo presentato la nostra ennesima denuncia e qualche amico dirà ma voi chi ve lo fa fare? E noi lo facciamo, il bello delle persone che agiscono nei confronti dei cacassotto, degli indolenti, dei morti di sonno e quant'altro, che noi agiamo e gli altri no. Allora, questa ennesima denuncia querela, non esposto come qualcuno dice che va dai magistrati a fare querele e in realtà poi non le fa, fa degli esposti che è una semplice comunicazione di conoscenza dei fatti che ha valenza giuridica molto e estremamente diversa. Qui noi ci assumiamo sempre la nostra responsabilità personale e individuale a livello penale di una controquerela che può esserci infatta. Noi siamo sempre in attesa, siamo alla 1213esima denuncia e fino ad oggi qualcuno ha tentato in due o tre occasioni ma poi l'ha rimessa la controquerela perché ha capito che gli buttava male. Noi siamo sempre pronti a queste persone a infilargli un dito nel culo, quella è una cosa così semplice, il dito nel culo, se vogliono. Veniamo a questa attuale. Premesso che questa è la base di partenza su cui poggiare questa denuncia ci è stata mandata da un amico belga, belga italiano ovviamente, che evidentemente ci legge e che quindi sa delle nostre diuturna e imperterri d'azione di denuncia e sapeva che se l'avesse mandata a noi sicuramente l'avremmo ben utilizzata. E allora lui che cosa fa? È un ragionamento che abbiamo fatto tante volte anche noi ma qui la vogliamo evidenziare. Lui ha citato l'articolo 2, l'articolo 32, l'articolo 35, 41, 47, 74, 89 della Costituzione che dicono in estrema sintesi che la Costituzione e la Repubblica tutelano la salute della gente, la permanenza in vita e le modalità e le garanzie per poterlo fare. E fra le altre cose poi la 47 che è già stata citata nei giorni scorsi, nell'ultima querela che abbiamo fatto, la Repubblica italiana incoraggia e tutela e risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Allora uno mi deve spiegare come fa la Repubblica e lo Stato italiano a controllare l'esercizio del credito e a coordinarlo e disciplinarlo se non detiene la maggioranza delle azioni della Banca d'Italia. A parte quello, in ogni caso diciamo che la Banca d'Italia dovrebbe avere, è nata con questa funzione, e ricordiamocelo bene, dopo lo scandalo della Banca Romana, la quale Banca Romana, né più né meno come hanno fatto i funzionari dell'Atac, che è l'agenzia, è la stessa cosa, esattamente, e metteva valore senza avere supporto, hanno stampato titoli di valore, hanno stampato titoli di valore, di biglietti, che può essere il biglietto dell'autobus, come il buono del tesoro, come la Banca Romana, dai, Franco Bolli e quant'altro. Dicevo, l'Ataca, e ripeto, è l'agenzia ferroviaria, tramviaria e degli autopulman di Roma, che ha, non si capisce bene chi, chi, chi sono i funzionari, i capi in testa, quelli che stampano, o chi che te pare, hanno stampato una marea... Un milione e mezzo di biglietti in più. Una marea di biglietti falsi, per cui la gente comprava i biglietti, i soldi non si sa dove sono andati a finire. Tant'è vero che adesso il sistema Atac non funziona più, vuoi andare con i mezzi pubblici, devi aspettare delle ore. La stessa cosa fece la Banca Romana, lo diciamo ai nostri amici, perché si parla sempre dello scandalo della Banca Romana, che, vedi caso, venne a coincidere con una serie di altri scandali di poco conto, che erano di carattere moralistico, storie di puttane, storie di politici che avevano delle amanti e quant'altro, né più né meno di quello che sta avvenendo oggi, perché ogni volta che si scopierchia qualcosa, c'è sempre qualche politico che ha un amante o che se la fa da in culo. E' la stessa cosa, è sempre... Senza lui era nulla. No, assolutamente no. Mi scusi Vendola se per caso pensa che riferiva a lui. Allora... No, ma pure l'ex presidente della regione Lazio. Sì, appunto, brava gente, brava gente. Allora, no, ma poi l'ex presidente della regione Lazio, una vecchia tradizione che c'è la regione Lazio, ebbe un'altra roba. Tanto è vero che ha ripreso a lavorare, poverino, alla RAI. Tranquillo. Con ottimi stipendi, come merita, ovviamente. Certo. Non è il solo... Aspetta, andiamo avanti, che sennò qui... No, però l'abbiamo detto, perché è importante questa cosa. Abbiamo focalizzato la regione. Allora, se la banca... Allora, lo ripetiamo, non un momento. Lo scandalo della banca romana era che loro, all'epoca, non c'era soltanto una banca... Sei, erano sei le banche di emissione. ...che emetteva denaro. Certo. Banconote. Queste banche, la banca romana, cosa ha fatto? Falsificava, ha emesso il doppio delle banconote mettendo lo stesso numero, quindi c'erano due fogli di carta... Aveva barato con i bari. Esattamente. E mettendo... Il problema era questo. Due copie. Non tanto l'aveva visto troppo, ma che l'aveva fatto in maniera troppo spudorata mettendo ai bari. Esattamente. Allora, è chiaro. Allora, per ritornare a questo discorso qui, la Banca d'Italia comunque avrebbe comunque la funzione di controllo, però siccome, come noi sappiamo, è stata privatizzata e le ultime cose che sono state fatte sono stati i dettagli gli ultimi giorni, questa banca essendo privatizzata ed essendo di proprietà delle banche che dovevano essere controllate non potrà più controllarle. No, non l'ha mai fatto. Sì, vabbè, d'accordo, d'accordo, diciamo che oggi è un fatto istituzionale. Non hanno tanti, tipo la Banca Romagnola, il credito romagnolo. Sì, sì, vabbè, dopo la vita. Allora, che cosa dice questa denuncia in sostanza? Prende, diciamo, di petto, diciamo l'aspetto della salute pubblica e della salute individuale e del diritto alla vita individuale e attraverso questo diritto anche il diritto della collettività a disporre dei vantaggi della permanenza in vita dell'individuo. Più o meno quella è l'ultimissima denuncia che abbiamo fatto, che riguarda appunto l'accusa che noi abbiamo portato nei confronti del Parlamento di non tutelare i cittadini, per cui essendo il Parlamento e l'attuale governo responsabile di tanti suicidi che ci sono stati... E qui viene ancora di più enfatizzata questo aspetto, insieme ad altri, e cioè, insomma, oltre alla Costituzione c'è ovviamente anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che stabilisce all'articolo 2 il diritto alla vita, il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge, come è anche qui in Italia, c'è l'articolo 660 del codice penale che appunto, diciamo, stabilisce i parametri, eccetera. E tant'è che noi, per esempio, il proposito del diritto alla vita è un proposito collettivo, viene stabilito anche dal fatto, per esempio, che da noi non è ammessa l'eutanasia, che dovrebbe essere un fatto personale, se fosse solo personale uno potrebbe disporre del diritto di rimanere in vita o meno, a secondo quella che è la sua necessità, la sua intenzione. Invece viene condannato e chi si suicida, in teoria, dovrebbe essere anche condannato per suicidio, per il reato di suicidio. I fatti sono dei reati che apparentemente hanno delle connotazioni di carattere morale, etico, religioso. Nella pratica serve per evitare che tanti omicidi vengano fatti passare per suicidi. E lo stesso discorso è quello che noi abbiamo ripreso. Ma sotto anche l'aspetto antropologico, l'aspetto antropologico dell'eredità, della discendenza, eccetera. È tutto un marasma, è un caservo proprio di interessi e di collegamenti sia sociali che morali che civili, di diritto civile, che verrebbero stravolti se fosse una norma, diciamo la normalità. Ecco perché viene tutelato invece la permanenza del diritto in vita. Non è che è casuale. È che questa è la ragione per cui noi abbiamo sempre avversato e continueremo sempre ad avversare quell'omicidio nascosto che consiste nell'estirpare gli organi a persone vive, a persone vive dicendo che sono morte. E qui siamo proprio al crimine, alla falsificazione, proprio per interesse immediato, perché chi poi fa il trapianto lucra trapiantando. Allora, andiamo avanti. E quindi, insomma, praticamente la Costituzione stabilisce, fra le altre cose, appunto, che lo Stato ha il dovere di tutelare e di regolamentare il lavoro della sua attività economica e credizia ed è tenuto a promuovere e sostenere questa attività, assicurandosi che il loro svolgimento non sia in contrasto con l'utilità sociale. Ed è questo il punto centrale del tema della denuncia attuale. Ce ne sono due o tre, come abbiamo già accennato, ma questo è quello centrale. E cioè che lo Stato ha l'obbligo di controllare affinché le attività economiche svolte all'interno del territorio siano di utilità sociale, siano moralmente valide, ecco, non si può fare i rapinatori ufficialmente, non si può fare l'usuraio ufficialmente. Invece qui abbiamo scoperto la prova che ufficialmente si può fare l'usuraio. Esattamente. Con tanto di benestare e beneplacido della Banca d'Italia. La Banca d'Italia che rappresenta la cricca degli attuali governanti. Perché distinguere la Banca d'Italia da Prodi, da Letta e da tutta questa gente qui è assolutamente assurdo. Fanno parte tutti di questa elite di delinquenti integrali. Allora, questo è stato messo poi anche agli atti, storicamente, quando è stato approvato dal Parlamento il 12 luglio del 2011 attraverso l'emanazione della legge 106, conversione del decreto legge del 13 maggio del 2011, numero 70, che è intitolato Prime disposizioni urgenti per l'economia. E fra pari centesi ci abbiamo messo delle banche, perché solo delle banche è una legge del genere che può essere a vantaggio. Insomma, che cosa dice questa legge? Dice, a proposito dell'articolo 8 della legge, intitolato Impresa e Credito, un titolo che uno legge e dice che lo Stato si interessa per tutelare l'impresa e il credito. Uno dice che bella legge, che bella iniziativa. E invece, articolo 2,4, legge del 7 marzo 1996-108, dice, quella prima, che è recepita appunto dalla nuova legge, le parole aumentato della metà sono sostituite dalle seguenti, cioè la precedente legge anti-usura diceva aumentato della metà, e invece dice aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali, e la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Uno dice, cazzo che bel vantaggio, che bel vantaggio, che prima era aumentato dalla metà, adesso invece solo di un quarto. No, ma invece no. Andiamo a vedere i numeri, facendo un po' di calcoli aritmetici, ma anche matematici, aritmetici. Assomma, non la faccio lunga, perché se no... No, tanto diciamo ai nostri amici che qualora loro vogliono avere... C'è tutto su albamiderane.com, possono scaricare, leggere. Lo scaricano, noi li consigliamo di andare a portare, a replicare, e ci sarebbe interessante farne migliaia di repliche, qualora ci fosse qualcuno che volesse alzare il culo, capito, ogni tanto in questo paese dei morti di sonno e di decrepiti mentalmente. Allora, c'è da aggiungere alcuni punti, pochi. Allora, questa è una misura in netto ed inconciliabile, in contrasto con le dichiarate finalità della stessa legge 106, in quanto non è che un artificio per consentire agli intermediari del credito autorizzato da Banca d'Italia ed aumentare a loro favore lo spread applicato sui crediti in essere alla data di entrata in vigore della legge, nonché sui nuovi crediti che sarebbero dati a erogare. Aumento di fatto avvenuto, come si vince chiaramente dalla tabella contenuta nella presente Querela, che su 25 diversi servizi messi a disposizione dalle banche private e quindi considerate anche dalla Banca d'Italia perché fa sembrare che fa controllo, in realtà non lo fa, ma semplicemente autorizza ad arrivare a certi livelli. Allora, e su 25 voci esaminate ben 16 o forse 17 perché non è ben chiaro una effettivamente come calcolarla, sottolineate con l'evidenziatore da parte nostra nella tabella in cui questo è stato fatto con l'evidenziatore sono in regime di interesse usurario ma addirittura ce ne sono alcune che sono oltre il limite usurario che già prevede queste condizioni qua. Siccome la legge prevede che una volta dimostrato che l'interesse è usurario il contratto non vale e il cittadino ha dei debiti non li deve pagare. No, non so, non deve avere i pagati. ma deve avere il risarcimento dei danni. Esattamente, compreso il risarcimento dei danni invitiamo tutti i nostri amici a piantare una grana alle loro rispettive banche. Per i fideuram, per i fidi, per le carte di credito, per i fidi a consumo, per i fidi a consumo poi non ne parliamo, proprio una cosa spudorata, va oltre ogni morale. Esattamente. E quindi ecco, insomma, questa legge favorisce esclusivamente gli entroidi degli operatori del credito e non è per nulla indirizzata e coordinata a specifici fini sociali semmai ad avanti giurare l'esatto contrario. Ma soprattutto la cosa più grave è che praticamente tutte le personalità politico-istituzionali e le più alte cariche dello Stato, al contrario di quanto è il loro compito ed è stata tutta la premessa evidenziata invece di perseguire i gestori delle slot machine gli usurai con concessione governativa o senza concessione governativa e le banche che continuano a fare i loro sporchi giochini finanziari a detenere per esempio ricchezze finanziarie all'estero finanziano con i getti terrariali le banche private come Monte Paschi di Siena e effettuano un ulteriore regalo alle banche attraverso il decreto IMU Banca Italia insomma tutte risorse finanziarie che programmi per tutelare la vita e la salute fisica e psiche dei cittadini rimasti senza reddito mai certamente allora tutto questo per dire che tutto questo marasma in cui ci dibattiamo oggi è intenzionale è provocato è messo in atto sia dai più alti livelli di progettazione secolare diciamo così che gli altri livelli della massoneria e di quelli che stanno sopra la massoneria anche i loro più umili manovali che sarebbero le banche private e gli usurai privati fanno esattamente tutti i sforzi finalizzati unicamente alla protezione dello statu quo cioè del regime e non dell'evoluzione sociale che stanno avendo i cittadini in questo momento particolare e dando assistenza e contributo a risolvere i loro problemi esattamente fine grazie a tutti grazie a tutti